buongiorno parlo con la signora morte no mi spiace sono sua sorella sorte avrai avuto indicazioni di sorte sono gli iscritti di destino mio consorte avrei dovuto immaginarlo rideva mentre le cifre del numero leggeva e la mano mia di leggente scriveva guardava una scena che già conosceva preziosa anima tu sei un errore non rideva di certo per quel fattore bensì perché tu con candido fervore parlar volevi all'angelo falciatore siamo noi a decidere come e quando morte è sorda lavora a comando ed è muta non parlerà miserando perciò ridacchiava destino celiando siamo spiriti faceti pazzerelloni ridi anche tu accetta i nostri doni non ci piace chi piange e fa questioni grazie a tutti grazie a tutti